Salve, io sono Daniela Giunta, sono una psicologa e insieme siamo il gruppo Archè. Vi presento la dottoressa Chiara Carpinteri, Giusilo Piccolo, Meri Baglieri e Valera Blandino. Il gruppo Archè è un gruppo che si è costituito da pochi mesi. Il nostro intento è quello di lavorare sulla prevenzione dei comportamenti a rischio, in specifico sulla sicurezza stradale. Il titolo del nostro lavoro è Allacciati alla vita. Il tema può essere letto come Allacciati o Allacciati alla vita. Lo scopo è quello di passare da un insegnamento ad un apprendimento e quindi ad uno stile di vita. La vita è preziosa ed è importante e mettere insieme tutte quelle informazioni che riguardano la propria sicurezza quando si guida un mezzo è fondamentale. Noi ci lavoriamo, abbiamo intenzione di lavorare con i ragazzi, con gli adolescenti, di metterci il nostro impegno, la nostra professionalità a servizio vostro perché ogni vita salvata è una vita guadagnata. Grazie. 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 Grazie.